Che amici tu, che amici, che amici portami, che amici, un corpiccio da fecire l'acca, un corpiccio da fecire l'acca, un corpiccio da fecire l'acca, no, chiami Natale, no? Natale e Pasquina vivono insieme sotto lo stesso tetto da separati in casa tra discussioni e incomprensioni. Tra i due arriverà Elena, maga, fattucchiera e nuova conoscenza di Natale. Una sua divinazione avrà un risultato inaspettato e macabro su un ospite della casa. Credere o non credere, da questo pilot nasce la burlesca profezia, la nuova commedia che andrà in scena fino al 19 marzo al Teatro Istituto Preziosissimo Sangue di Bari. Una commedia ironica e leggera in due atti, ideata dall'attore e regista Piero De Lucia e promossa dall'associazione Cucciolo. Insieme a De Lucia in scena gli attori Enrico Milanesi, Lucia Coppola, Filippo Don Vito, Vito Calabrese e Lia Cellammare. Bene, noi siamo qui, stiamo facendo una prova generale perché dobbiamo ripetere, ragazzi, dobbiamo ripetere, assolutamente sì, perché dobbiamo essere preparatissimi, perché il pubblico deve venire e ci dobbiamo divertire, dobbiamo soprattutto far divertire il pubblico che verrà a vederci, è vero? Certo. Bene, vogliamo salutare ancora? Ah, c'è bene a tutti voi. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo a teatro.